Purtroppo questa ennesima tragedia a Campli, Gianluigi Ragni che è venuto a mancare lunedì scorso e domani in occasione proprio dei funerali che si terranno alle 14 in nome a Campli abbiamo proclamato il lutto cittadino. Un forte abbraccio va naturalmente a tutta la sua famiglia, al fratello, alla mamma, alla nonna e l'ennesima tragedia purtroppo che questa famiglia subisce come comunità sentiamo di stringerci attorno al loro grande dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Un ragazzo che viene ricordato da tutti come benvoluto, bravo, molto attivo anche nel sociale, tra le foto che abbiamo visto in questi giorni c'è quella dove partecipava perché lo ha sempre fatto alla Sagra del Tartufo di Campovalano. Assolutamente, un ragazzo sempre a modo che ha organizzato insieme ai tanti amici dell'Associazione di Campovalano la Sagra del Tartufo per tanti anni. Perdiamo sicuramente un ragazzo che aveva una vita davanti, è una purtroppo triste notizia per il nostro comune, l'ennesima in questo bruttissimo anno. Speriamo davvero che episodi come quello che è accaduto a Gianluigi accadano sempre meno, non solo a Campli ma in tutta l'Italia.